Ciao, questo è il video sulla mia routine per il viso perché di solito vi faccio il video sui prodotti che ho più utilizzato ma siccome sono cambiate diverse cose nell'ultimo periodo vi volevo fare proprio un discorso generale e parto dalla mattina la mattina come detergente per il viso sto utilizzando questo della Bema il detergente delicato opacizzante l'ho preso da Tivotal nell'ultima settimana di aprile perché avevano fatto dei coupon sconto aveva uno sconto del 20% quindi anziché 14€ l'ho pagato 11€ e qualcosa con lo sconto è un buon prodotto secondo me è troppo presto per dire qualcosa per quanto riguarda il discorso opacizzante perché comunque lo sto utilizzando da una settimana però è veramente delicato questo è il dosatore ha la consistenza quasi di un gel una via di mezzo tra un gel e una crema fa una buona schiuma sul viso ed è realmente delicato mi lascia comunque la pelle molto morbida poi per il discorso opacizzante ne riparleremo più avanti perché ancora non ho un'idea ben precisa poi come contorno occhi la mattina sto utilizzando questo levigante con uva ursina del Piemonte mirtillo burro di caritele acido ialluronico della Giardino Cosmetico ed è questo qui questo ha 15ml e 6 mesi di pau questo me l'aveva regalato Francesca si sia in French e questo lo sto utilizzando da l'ultima settimana di marzo quindi è più di un mese che l'utilizzo e la cosa che noto subito che una volta steso proprio l'effetto levigante si vede perché fa veramente un effetto tensore vedete proprio la zona levigata bella liscia poi la sera quando mi strucco le rughette sono lì dove sono perché non è un chirurgo ma è un contorno occhi ma va benissimo così perché già solo il fatto che io vedo la zona levigata la mattina quando l'ho messo a me va bene proprio l'effetto si nota subito l'odore di uva e di mirtillo si sente poco perché comunque la profumazione non persiste e si sente una volta che voi lo aprite però ne sentivo parlare sempre bene di questo contorno occhi e secondo me avevano ragione perché questo effetto levigante è veramente si nota subito dalla prima volta che lo stendete poi come tonico si sto utilizzando l'idrolato di rosa questo qui della saponaria questo anche me l'ha regalato Francesca si si è in French l'odore di rosa si sente perché io ce l'ho qui all'interno di questa di questo spray l'odore di rosa si sente non è un odore che amo particolarmente però l'effetto sul viso mi piace molto perché è un un tonico molto rinfrescante e da lascia la pelle veramente morbida poi io penso che l'insieme dei prodotti che sto utilizzando mi stanno aiutando molto contro l'insorgere delle imperfezioni perché ultimamente non lo voglio dire forte mi stanno uscendo molti meno brufoletti rispetto al solito ecco questo sono 10 giorni che lo uso però la cosa che ho notato subito è che è rinfrescante questo tonico e la pelle poi subito dopo è molto morbida magari l'odore non è un gran che poi per quanto riguarda la crema per il giorno ho più penso due applicazioni di questa crema dell'alchemilla purificante questa qui questa me l'aveva data sempre Francesca si si è franci giusto per nominarla qualche volta nel video me l'aveva data Francesca quando era più o meno qui perché sapeva che a me piaceva me l'aveva mandata un pochino e quindi me l'aveva fatta finire a me è una crema fantastica molto molto corposa pensavo che una crema per pelli misto grassi dovrebbe essere più delicata più leggera invece questa è molto corposa ma allo stesso tempo mi lascia il viso opaco per tutta la giornata cosa che non mi era mai capitata con questo veramente assorbe il sebo asciuga realmente la pelle e nonostante questo mi lascia la pelle comunque morbida e idratata principalmente questi ultimi due o tre giorni ha fatto realmente caldo ieri erano 29 gradi e utilizzando questa devo dire che la mia pelle il mio viso non era completamente lucido assolutamente ma era abbastanza opaco dico abbastanza perché comunque con 29 gradi stando sotto il sole un po' si suda io sudo tantissimo però non avevo il viso completamente lucido come mi capitava di solito poi passando alle maschere sto utilizzando sempre questa della tea natura rania maschera visual gasul o rassul non so come si dice questa ha 50 ml e 6 mesi di pao questa maschera mi piace veramente tanto perché fa un leggero scrub al viso quando voi la mettete su ma purifica veramente tutto pulisce il viso in una maniera fantastica veramente vi sentite il viso bello e pulito quando l'andate a togliere io non amo la profumazione perché per me puzza da morire però per esempio ne ho mandato un po' ad Eliana a lei la profumazione non dà così tanto fastidio quindi forse sarò io che sarò fissata con i profumi non lo so però è veramente ottima come maschera io la tengo su diciamo 10 minuti un quarto d'ora dipende da quanto tempo impiega comunque a seccarsi perché poi una volta che si inizia a seccare voi sentite la pelle che tira e allora la vado subito a rimuovere però non mi arrossa il viso non mi mi dà nessun tipo di problemi e mi sento veramente il viso pulito quando la vado a togliere poi per quanto riguarda la sera come detergente per il viso sto continuando ad utilizzare questo della fitocose il gel detergente alla rosa centifolia prima 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 l'utilizzo un mattino e sera quando ho preso quello della bema ora l'utilizzo solo di sera la profumazione è sempre di rosa come il tonico non è che non mi piace come profumazione perché alla fine mi piace però tutto insieme è troppo questo ha una consistenza che spiegarvela non fa schiuma pulisce bene il viso e ha la consistenza di questo colore che sembra un omogenizzato della mellin è una consistenza particolare molto molto densa che non è né un gel né una carema sembra realmente un omogenizzato non so come spiegarmi però non fa schiuma sul viso ma allo stesso tempo anche questo va a pulire bene il viso e mi lascia comunque la pelle morbida ho notato che però utilizzando il tonico questo alla rosa dopo questo detergente qui penso che sia l'insieme di prodotti la mia pelle è molto più morbida che se utilizzo il tonico alla rosa dopo questo della bema quindi probabilmente è l'insieme i principi dovrebbero essere gli stessi dei prodotti quindi l'insieme forse di quelle due cose fa sì che risulti molto più morbida la pelle del viso poi di sera come contorno occhi sto finendo questo dell'Antos questo che è miele albicocca mela echinacea vitamina olio di borragine questo qui questo prima lo utilizzavo per il giorno ma poi siccome dovevo finire quello di fitocose che aveva una scadenza molto più breve lo utilizzavo quello di fitocose mattina e sera ora questo siccome ha l'olio all'interno e ha una consistenza molto oleosa lo sto utilizzando di sera non è niente male dovete massaggiare diciamo un po' più a lungo per farlo assorbire perché essendo così oleoso se ne mettete troppo fate fatica per farlo assorbire mi lascia la pelle del contorno occhi morbida però non me la lascia levigata come fa quello di giardino cosmetico si me la lascia morbida però tra i due preferisco quello di giardino cosmetico per il discorso di pelle levigata l'ultima cosa che ora ho iniziato ad utilizzarla di sera ma finita quella dell'alchimilla passerà di giorno è la crema viso della bema per pelli miste grassi eccola qui questa con un altro scontro del 20% da tigotà l'ho presa l'ultima settimana di aprile a prezzo pieno viene 24 euro e ho iniziato già ad utilizzarla ha una consistenza molto molto densa abbastanza corposa come quella dell'alchimilla nonostante sia per pelli miste grassi però è una settimana che la utilizzo anche questa solo di sera quindi non ho un'opinione ben precisa però la cosa che ho notato è che la mattina non mi sveglio con la pelle lucida quindi penso che faccia bene il suo lavoro questo era tutto magari nel prossimo mese vi parlerò meglio dei prodotti che ho iniziato ad utilizzare adesso e ci vediamo al prossimo video ciao ciao